Alberto, allora come sono questi gradoni di Zeman? Sono pesanti, però si fanno, si fanno. Speriamo che servino, sicuramente serviranno per domenica. Una grande vittoria e soprattutto un grande cerri in campo dal primo minuto nel Pescara di Zeman. Sì, sono stato molto contento, ma come dico e ripeto e ripeto, per la squadra, soprattutto per la squadra, perché abbiamo affrontato mesi difficili e adesso che abbiamo ottenuto questa vittoria importante contro una squadra comunque in difficoltà, ma forte, siamo molto contenti e ce la godiamo. Adesso però l'abbiamo archiviata e cerchiamo di dare il tutto per tutto con il Chievo. No, io cerco di dare il meglio, a partire dagli allenamenti, poi la domenica ogni gara ha un po' a senso, non sono tutte uguali purtroppo, non sono tutte come domenica, sono tutte difficili, tutte diverse, ma cercheremo comunque di fare il massimo. Sono contento per me a livello personale perché sono riuscito a fare una discreta a gara con tutta la squadra e siamo contenti per la vittoria. Hai saputo di giocare dall'inizio praticamente un'ora prima. Sì, alle 2, 2.10, a tutta la formazione, prima di scendere per il riscaldamento. L'ho presa con grande energia perché è un'occasione che dovevo sfruttare al meglio. È andata bene, dai. La persona che sa di calcio, che l'ha inventato, comunque è stato un grande. Sono un giocatore di un'esperienza enorme, comunque fanno sempre, insomma, da tanti anni che fanno sempre dei grandi campionati, insomma, per la società e quindi sarà una partita difficilissima. Noi andremo là e cercheremo di portare a casa più punti possibili. Sì.